Tutto ciò che si esprime attraverso le sensazioni umane e spirituali è cultura e tutto ciò che si vive giorno dopo giorno, istante dopo istante è patrimonio fondamentale per la continuità e il mantenimento di noi stessi, del nostro luogo di nascita, della nostra lingua, della nostra storia. La cultura non è conoscere i libri ma scrivere le pagine di se stessi sul libro della vita già che la nostra amata, i nostri figli e il mondo legano le frasi del coraggio e della dignità raccontate con inchiostro d'amore. Credere nell'amore significa esprimere la gioia di esistere. Non comprendo perché vogliano farmi delle domande, non conosco alcun chi. Che dire di chi ascolta le mie parole e vi trova un angelo da sedurre per poi non comprendere?